Giancarlo Coraggio è in passato già alla guida del Consiglio di Stato, il nuovo Presidente della Corte Costituzionale eletto all'unanimità. L'intervista è del Direttore Giuseppe Carboni. Presidente, la pandemia ha fatto emergere una grande questione. Tutela della salute da un lato, limitazioni delle libertà personali dall'altro. Qual è il punto di equilibrio? L'emergenza Covid effettivamente pone questo problema, un problema delicatissimo perché si tratta di trovare un punto di equilibrio fra diritti e valori tutti di estrema rilevanza. La salute, l'istruzione, le relazioni sociali, la libertà di movimento. Il punto di equilibrio va trovato di volta in volta, è un compito difficile a cui si debbano dedicare tutte le istituzioni. Secondo lei è possibile introdurre un obbligo di vaccinazione? La Corte si è pronunciata sul punto e ha affermato che per legge può imporsi un obbligo di vaccinazione. Titolo V della Costituzione, come legge il rapporto tra Stato e Regioni? Che il titolo V della Costituzione abbia comportato dei problemi di riparto di competenze è un dato di fatto che non può negarsi, lo dimostra l'entità del contenzioso esistente tra Stato e Regioni. Contenzioso, peraltro, in discesa. Lo strumento cardine che ha usato la Corte per risolvere questo problema è quello della leale collaborazione. Purtroppo, nei momenti di emergenza, la leale collaborazione funziona con maggiore difficoltà. Dopo l'ex Presidente Marta Cartabia, nella Corte ci sono quattro giudici donne. Non ci sono precedenti? È un segnale per il Paese? Certo che è un segnale, è un segnale importante che il massimo organo di garanzia veda finalmente la presenza di quattro donne. Ma è appunto solo un segnale, nel senso che indica un cammino che ancora occorre percorrere, perché se in alcuni settori, come in magistratura, si può affermare che è stata raggiunta una vera parità, in altri campi il cammino è ancora lungo. Nuove misure e gestione dei fondi europei